Black Later Black Later rinnova, copre e uniforma le imperfezioni estetiche della pelle del cuoio neri. Ha una lunga durata d'effetto di circa 6 mesi, rinnovabile. Ha finitura asciutta al tatto idrorepellente dopo poco tempo ed è l'unico a dimostrare resistenza ai solventi. La resa è molto elevata perché con 100 ml si fanno circa 3 metri quadrati di superficie piana. Prendo un po' di prodotto alla volta con un pennello la superficie deve essere asciutta e dopo qualche minuto con un panno vado a togliere il prodotto in eccesso. Molto facile e veloce da applicare dopo alcuni minuti la finitura è idrorepellente e asciutta al tatto. La resistenza anche agli sgrassanti, questo è uno sgrassante per motori, il prodotto è assorbito dalla pelle. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!